Musica Bentornati in questo bellissimo rifugio vista mare, dunque siamo a Sanremo, Antonella ciao Buongiorno, ben ritrovati E Tiziana con Armando, benvenute, ciao Non parla Tiziana, però ci sta presentando la copertina Quindi andrei subito a focalizzare la nostra attenzione su questa splendida copertina Armando è un cucciolo che però è già un cane adulto mi pare Armando è un cucciolo, beh no adulto no Hai visto le sue? In quel senso lì sì, è arrivato, avrà circa 5 mesi È arrivato in pessime condizioni qua in rifugio Infatti adesso è già un bellissimo cagnetto E niente, adesso anche lui praticamente aspetta una famiglia La signora Tiziana ha detto adottabile immediatamente Assolutamente sì, lui è a posto, ha già fatto il microchip e tutti i vaccini di rito Quindi lui è un cagnolino praticamente a posto, sarà una futura taglia media abbondante Insomma è sano quindi Forza Armando Forza Armando Benissimo, dopo questo inizio in discesa Diamo un'occhiata alla scorsa trasmissione Che ha visto adottare quali cani? Fai la postadozione, vai Allora è stato adottato Mogli Non so se vi ricordate il Pitbull Color Carbone Poi è stato adottato lo Spinone Che era stato trovato allo Yacht Club E praticamente adesso si chiama Poldo E poi è stato adottato anche Pino E quindi abbiamo avuto tre belle adozioni insomma Il presidente non l'abbiamo adottato, lo salutiamo, ci manca Marco ciao, che dici? Partiamo con la rassegna? Partiamo con la rassegna Via Supermanu, la Manuela, così sovronominata, ci presenta adesso Frida Allora Supermanu ci presenta Frida Che è una bellissima cagnolina Un po' timorosa ma in realtà molto buona Adesso ha imparato anche ad andare al guinzaglio E esce fuori tranquilla Mentre prima non ce la faceva tanto E quindi ha fatto tanti tanti bei miglioramenti È una cagnolina molto giovane E quindi anche lei è sempre lì alla ricerca di una casa Antonella, cosa fare quando il cane ha paura Come in questo caso a Marlene? Ha paura della nostra telecamera, della nostra presenza Che fare? Sono cani che essendo rinunce di proprietà Quindi abituati in una casa, tranquilla, solo loro È facile che poi quando entrino in un ambiente inchiassoso Come può essere il rifugio Possono avere dei timori Che in realtà, secondo me, se dovessero essere adottati E ritornare a una situazione normale Questi timori qua potrebbero scomparire Purtroppo finché devono stare qua Devono comunque avere tutta una serie di cani Che li abbaiano contro E anche avere a che fare con persone Che loro vedono attraverso delle sbarre Quindi, tra virgolette, fanno anche la guardia al loro box La situazione è un po' questa E quindi, praticamente, sono timorosi Ma non sono timorosi perché sono timorosi Adesso la questione è semplicemente che hanno avuto proprio l'impatto del canile Che è stato per loro molto pesante Quindi un percorso di recupero e poi via l'adozione Secondo me sì Ma un percorso di recupero direttamente nella famiglia Ma non è un percorso di recupero pesante È semplicemente il fatto di conoscerci Conoscersi e incastrarsi, ecco In questo senso qua proprio Lenny è bello, Lenny è giovane Già sono degli ottimi punti di forza per iniziare una descrizione Lenny è un bellissimo cane Molto tranquillo in realtà Anche un po' border direi Anche un po' border E praticamente è una rinuncia di poverietà Ed è stata una cosa strana perché non abbiamo neanche capito perché hanno rinunciato a questo cane Comunque, niente, l'hanno adottato cucciolo Solite storie Alla fine, lui a quattro anni ce l'hanno ridato indietro Proprio così, ce l'hanno ridato indietro E niente, è un bel cagnolino Molto tranquillo Bravissimo al guinzaglio Lui è molto bravo, il guinzaglio non tira E anche lui adesso lo si vede un pochino agitato Perché siamo sempre al solito discorso Quattro anni a casa, tranquillo, sul divano Arrivi qua, rumore, cani che passano avanti e indietro E' un po' destabilizzante la situazione Quindi non fatevi impressionare ma in realtà sono cani molto tranquilli Si assomigliano, sono giovani, condividono lo stesso box, Kate e Charlotte Sì esatto, sono giovani, anche loro due sono due rinunce di proprietà Le abbiamo messe insieme per le affinità elettive E vanno d'accordo Sono delle cagnoline molto buone Kate alla fine di quest'estate ha vinto anche il premio della sfilata dei cagnolini in spiaggia Ha vinto il premio E come è la più bella Perché in realtà è molto bella Ed è quella più chiara Invece Kate è quella con il musetto un po' più scuro Una bellissima maschera direi Una mascherina, sì Sono adottabili in modo separato comunque? Sì, 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 sono adottabili in modo separato Sono giovani, avranno circa due anni e mezzo E sono molto buone Dico che è meglio un'adozione divisa che condividere un box, no? Assolutamente d'accordo, meglio un'adozione divisa che una condivisione di un box Se ti chiamano Zeus devi essere bello per forza Lui infatti è molto bello La nostra nuova new entry è stata trovata in spiaggia E praticamente ce l'hanno portato Ovviamente senza microchip, senza segni identificativi E quindi, niente, adesso è qua In attesa anche lui di essere identificato E dopodiché anche lui sarà adottabile Microchiparli significa salvare loro la vita? Assolutamente sì Microchiparli è un segno di civiltà Diciamo così Perché praticamente Dai un'identità al cane Cioè se purtroppo può capitare che uno perde il cane Col microchip si riesce ad arrivare al proprietario E quindi le cose sono molto più semplici Molto più semplici anche dall'inizio quando c'era il tatuaggio Ah sì, è stata telespettatrice di tutta la sfilata Dei suoi amici, colleghi qui A un certo punto ci siamo detti E lei? Perché no? Sì, lei è una bellissima cagnona Anche lei è una rinuncia di proprietà Oramai ha sei anni Oramai una ragazzina Una ragazzina Però lei è veramente fantastica Mi piace che non ci sia la sua volontaria preferita Perché è veramente bravissima Al guinzaglio Con gli altri cani È proprio brava brava Sì Allora loro due sono Frodo e Lord Ma siccome sono praticamente uguali Li diamo buoni uno per l'altro Sono due bellissimi cuccioloni di cinque mesi Sono molto carini Erano una cucciolata di cinque Tre sono stati adottati e rimangono loro due E quindi praticamente niente Cercano casa Che non crescano in canile insomma Che non crescano in canile Molto importante Tra un cucciolo e l'altro Abbiamo presentato un bel numero di cani Con qualche anno di più Volete di sicuro i problemi? Eccoli Questi ci sono Li avete però Le soddisfazioni e tutto il resto Pensate però ai cani adulti Non ci teniamo Perché altrimenti Ce li ritroviamo nei canili per anni Eh sì Eh sì Purtroppo sì Bene Che voi vogliate dei problemi piccoli O dei problemi grandi L'EMPA di Sanremo vi attende E che dire Grazie alla prossima Cara Antonella Grazie mille a voi Grazie a tutti Venite a trovarci Noi siamo sempre aperti Tutti i giorni Tranne la domenica e i festivi Dalle 15 alle 18 Bene Grazie a te E a tutte le tue colleghe Che hanno presentato i cani Tiziano Alla prossima Ciao 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 Grazie di tutto Bene L'EMPA c'è L'EMPA vi attende Buona dozzana a tutti E rivediamo i nostri amici L'EMPA di Sanremo vi attende E rivediamo i nostri amici Grazie a tutti. Grazie a tutti.